Salve a tutti ragazzi con DUN3DN e benvenuti in questo nuovo video dopo la super intro quei giocatori acquistati per la divisione 1 che dovremmo affrontare oggi, la ragazza già l'abbia affrontata 2-3 volte ma non siamo mai arrivati al titolo, però oggi siamo molto vicini, siamo molto vicini e quindi la facciamo insieme a voi, guarda la media goal, 11 partite 20 gol, questo per il torneo, ragazzi se vingiamo questa divisione ci lasceremo con l'acquisto di un giocatore molto, una sorpresa, ragazzi, se vingiamo, ma pure se non vince, oggi, quest'episodio si concluderà con una super sorpresa, vi saluteremo per sempre perché noi dobbiamo, poi ci vediamo l'anno prossimo, a estiveggiare, perché noi dobbiamo estiveggiare, ovvero, è stata che metto se ne va, e vabbè a me di russia, me mi rivede, mentre lo rivedete l'anno prossimo della prossima serie, ok noi possiamo, ragazzi, addio, giochiata, ma vedete ragazzi abbiamo già raccolto pochi soldi, 40 mila, dovete indovinare cosa ci volevo comprare, scrivetelo nei commenti anche se non ci stanno andando commenti a fine video però, è sempre meglio sperare, scrivetelo Quindi li abbiamo usati adesso No Ah c'è il nostro stesso stemma Deve perdere assolutamente Non deve vivere Il nostro stesso stemma No Ah ha cambiato stemma Adesso Sexy hunt Un allenatore bellissimo Ah Che faccia c'è ATS William Questa è la nostra formazione Con Cazorla E David Ruff E Will E Starry Mi hanno levato il cuore E certo E abbiamo andato Rune Questa è la nostra formazione Viste se Attenzione Incredibilmente Il magico Cazorla Rune è molto piazzato Riesce a parare Gli scelgo Il porco di Gli scelgo L'ha fatto Cazorla Si è staccato i piedi Shurla incredibilmente Sempre Shurla Serve Rune Che è molto più bravo Runei 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 è morto in calore quel porco di gioco GOOOOOOOL 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 i cacchi stanno succedendo non facciamo scherzi non facciamo scherzi non facciamo scherzi non facciamo scherzi lui è rimasto ai diri in volta del primo tempo 2 non ha fatto i cacchi grazie ma hanno 4 punti dobbiamo vincere una e pareggiarne una grazie qua c'è solo 82 perché 3? quando non l'abbiamo leggerata abbiamo trovato una squadra con starridge blue per felice, attacchi fortissimo il nostro attaro grande saputete mirai yes ben bene check rams io credo che l'aviatore è ancora il più forte di destra i diritti i diritti i diritti i diritti raccomando schilla con ruoli i diritti nooo quel polco che sta in porta ancora al check catch vedi che non c'è il passaggio potenziale vabbè rams è fortissima che c'è un ruolo di riflesso che cacchio rams è fortissimo che cacchio rams è fortissimo a ci sognare i vidici vedi 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 ma sta giocando la casa mi stai sognando i vidici che ritorna il signore di testa vedi 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 quindi che non è buttato non ora è quello del giro vip vip youtube dunque quel suo ruolo il fri base vip in suggerimento vip ancora di testa ma da te andando voler ripresente buonest Film non lo vado un mondo del mondo sottrazione che ti fa perchè è un po' del corretto sbagliato un po' il treno di me cambiato visto che ho fatto così che mi sei nervosito non cambia no, non aveva cambiato lui, però tu l'hai ricambiato sul coso, non aveva cambiato sul bidista ma combat ti ho fermato, non si stai su città ok ragazzi siamo ora sul menù dov'ho aver perso l'altra partita però comunque ci vanno altre due partite quindi vediamo quanto stanno stanno ancora bene più stanco sono gli attaccanti possiamo giocare vediamo chi troviamo club de catra oh giro nero c'è che con me lo segnico sticc su unicidici mani esterno potenziato ma giro nero stavolendo scivare la mia persona che cacchio purtroppo stavano in basso subito il tuo che fa schifo su due volte che cacchio che cacchio che su se non la stupe e li sta sciolti fan di te che c'è tutti i maiali col caschetto rugby fa schifo fa schifo fredati fredato una tacchetta GROOOOOOL incredibile guarda uona 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 o no grandissimo goal chi è il mogico che si è aperto non si si sa un bravo che forza WDF di forza primo pezzo ok ragazzi ci siamo ripresi per far riposare effetto messi per far riposare la squadra oro abbiamo fatto una partita a bronzo contro altri oro e abbiamo vinto quanta cora ragazzi ragazzi ci siamo presi il nuovo cammino di Yattara ragazzi l'acqua l'acqua l'abbiamo visto stavo sfogliendo un po' di brutta di immagini subito abbiamo comprato e guardate i gol che ha fatto la media goal 12 partite 22 gol signori e il giocatore il più forte della terra la terra non esistente no ma tutto arti in porta da qui oppure palla segnata la partita scorsa che palla ora ragazzi tutta la vostra partita per vincere la divisione 1 dobbiamo fare un solo punto in un'ultima partita ma tutto era contro di noi quindi dresden vai verso il titolo della divisione 1 no e vincino asaa ok ma ti aspetta ma ti aspetta ma ti aspetta le giambatte asaa 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 ma anche chalc che ha fatto The Shuler al Ezio no è finito è finita mi hanno segnato vabbè per Shuler però che cacchi poi bella quelle cose no vabbè li fermi ma perchè siamo 7 persone eh oh non li fermi a questi non li fermi si basta che si era la vinciare che era la vina dove si può vedere se ne ha fatto due tiri questo a parte quello di prima guarda vante persone, nessuno per le vanno e non hanno i nostri ci recuperano compagni ora noi teniamo compagni Sì, Sì, Sì! chiudimi la mano mamma mia mamma mia oh mamma mia oh mamma mia Ture mamma che giocatore mamma mia e poi dici che non mi si ferma il cuore che non mi deve fermare il cuore mamma quanto ti amo mamma mia quanto ti amo Ture mamma quanto ti amo ragazzi qui si comincia la serie di FIFA come una best passate l'estate davanti a FIFA per farvi 60.000 perché questo giocatore lo merita, lo merita tutto Ture ci ha salvato la vita signor grazie grazie signori Aya grazie mamma mia mamma mia che gioco mamma mia Ture 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 che giocatore ture chi è giocatore ture grazie anche un quarto con l'animo e lui perché ho fatti passaggio alla fine non gli dico da fa 7 gol però Ture 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 via 5.8 mila acquistare ma è che si ripresa domanda pausa robin vanno per me prezzo minimo signori vedi 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 santa e questo qua attraverso il risultato rossi ragazzi non esalti per cambiare il vento robino vanno non ho scoperto rarrore via che è brava che la mettiamo in squadra e poi ci saliamo definitivamente ecco ragazzi siamo qui voi vedete nel video intanto facciamo una foto così per ricordo di questo momento che metteva al suo paese d'origine in bosnia e si guarda questa volta tutti i giorni eccolo signori e salutare dire addio dispiaciuto è stato distrutto a ragazza si è scesa a 39 vabbè ragazzi vi salutiamo l'ultimo saluto di me grazie vi auguriamo delle buone vacanze stile e noi come abbiamo detto ci rivediamo l'anno prossimo mentre con me ci tutte le sarei stati a bottiglia di video agliati il signor danno un video al giorno sicuramente questa estate perché lo conosco e un video ogni secondo e speriamo che questa serie vi sia piaciuta fatecelo sapere se esistete se non mi permita buttiamo tutte le play e non c'erano mai più a fiba e noi ci vediamo tutti non ci vediamo l'anno prossimo con la prossima serie bella ragazza